Alberto, ti verso un po' di caffè. Sì, grazie. Senti, visto che i ragazzi sono andati, devo dirti una cosa. Al lavoro le cose non vanno tanto bene. Prevedo che quanto prima io e Gianni saremo licenziati, per cui credo che sarò costretto a inventarmi qualcosa. Ma che cosa ti inventi alla tua età? Ma poi dopo vent'anni che lavori in quell'officina senza mai assentarti un giorno. Ma neanche quando sono nati i tuoi figli ti sei assentato. Me lo ricordo benissimo. Ora come si fa? I ragazzi hanno bisogno di tante cose. Anna deve fare il viaggio di istruzione. E Adriano ha bisogno di un libro per l'università. E poi... E poi ci sono le bollette, la spesa. Guarda, non preoccuparti così tanto. D'altronde abbiamo messo qualche cosa da parte che ci potrà aiutare per affrontare i momenti difficili che stiamo vivendo. Poi vedrai che risolveremo il problema. Non è la prima volta che affrontiamo tempi duri. E ce la siamo sempre cavata. E va bene. Ci proverò a essere serena. Ora comunque devo uscire. Devo andare alla casa famiglia dai bambini. Che non hanno scuola stamattina. Così ne approfitto e ci vado adesso. Ho comprato delle caramelle. E gliele porterò. E ne saranno felici. Sei così dolce. Ti sposerei altre mille volte. Scuola tutti. Grazie a tutti.